A settembre, facendo i conti d'estate, siamo accorti che le entrate che erano previste nel bilancio di previsione del 2015, a quelle entrate mancavano 32 milioni di euro. Oggi, noi adesso, in questo momento che ci stiamo ascoltando, stiamo approvando il bilancio, che è uno dei motivi perché poi anche i dipendenti stanno protestando, il bilancio che è chiuso in pareggio. Cioè abbiamo recuperato, tagliando costi, ottimizzando risorse, con proteste di vario genere e anche però rilanciando un po' di attività edilizia, perché in effetti abbiamo sbloccato un po' di procedure, abbiamo ritrovato questi, in qualche modo abbiamo ribilanciato il comune, chiudiamo in pareggio. E non solo, nei prossimi giorni presenteremo il bilancio di previsione del 2016, che non si è mai approvato in questo comune, quest'anno vogliamo approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre del 2015. E in pareggio pure quello? Sì, ovviamente in pareggio pure quello. Chiaro che, e ho spiegato ai sindacati, e poi così possiamo passare a qualcos'altro, ma ho spiegato, ho detto guardate, abbiamo interesse a tutti che la città riparta, e deve ripartire dalla città, dall'economia della città, dal lavoro dei giovani. Una persona mi ha detto, ma voi avete tolto la ZTL, quei soldi della ZTL che avete in qualche modo pagato, cioè rinunciato delle multe, perché minore entrate, insomma, dice che è una scelta politica, voi avete avuto avvantaggiare i commercianti. Io ho risposto a lui ieri e rispondo a voi oggi. Ha detto che è vero che è una scelta politica, cioè la scelta io l'ho fatta sulla base di quello che avevo detto in campagna elettorale, io sono abituato a dire le cose e poi a farle. Avevo detto che avrei tentato in tutti i modi di spegnere le ZTL, tra l'altro non ci sono ancora riuscito del tutto, ma insomma è vero che è un costo, ma è una scelta. E la scelta, lo dico alle persone, ai lavoratori, non è assolutamente a favore dei commercianti, è a favore della città. Dobbiamo riprenderci la città, rifarla rivivere con un po' di entusiasmo, con un po' di carica. Mi rendo conto che quando fa male, fa male. Però l'importante è restare in questo momento vigili e vivi. Abbiamo qualche azienda a problemi ancora maggiori, perché hanno proprio perso il lavoro. E perdere il lavoro è una cosa ancora più drammatica. Penso alla frenumeria che c'è davanti all'aeroporto, che adesso sta tentando di fare una cooperativa. Penso a Vailies, che stiamo cercando di capire in queste ore che cosa sta succedendo. Alla Superjet di Porto Marghera, anche lì ci sono discorsi. Quello del jet russo, insomma. Esatto, il jet giuro russo. Ecco, noi stiamo attendendo e stiamo chiedendo al governo raguagli, per cui dico, attenzione a... Purtroppo c'è gente che non ha il lavoro, e sono troppi, e dobbiamo far ripartire Porto Marghera urgentemente. E lancio un appello, facciamolo assieme. Nessuno vuole far male a nessuno. Purtroppo, in questo momento, la situazione è critica. Facendo un lavoro serio, si rilancia la città. Bisogna ristrutturare questa città. E adesso comincieremo con le partecipate. Sia chiaro, il trattamento sarà uguale per tutti. Noi vogliamo salvare tutto il lavoro di tutti, ma dobbiamo anche mettere in sicurezza i conti delle imprese, i conti della città. Dobbiamo dare un futuro ai giovani, e lo facciamo se ripartiamo con energia e con equilibrio. Dobbiamo dare un futuro ai giovani,